Buonasera e un caloroso saluto a voi tutti. Accettando volentieri il caloroso invito rivoltomi dal Ministro Orlando, ho inteso innanzitutto esprimere il mio apprezzamento per questa iniziativa e per il metodo a cui essa si è ispirata. Quello cioè di mettere a confronto e far interagire tra loro pubblicamente i diversi molteplici soggetti interessati, tutti gli attori partecipi di un processo di ricerca, di sperimentazione sul campo e di collaborazione costruttiva in un determinato campo. Oggi quello della esecuzione penale, ma adesso senza dubbio penso possano aggiungersi nel futuro altri temi ai quali applicare lo stesso metodo valido e fecondo. Naturalmente, non facendo mai mancare, e ce lo dice il programma di questi Stati Generali, il contributo di studiosi e di rappresentanti delle istituzioni per le funzioni che sono venuti svolgendo o che tuttora svolgono e che possono senza dubbio recare un apporto considerevole ad una discussione su tutti gli aspetti del problema del pianeta giustizia. Vedete, nell'esercizio delle mie funzioni precedenti, io ho ritenuto doveroso intervenire con una certa intensità e continuità sui temi scottanti di quello che ho appena chiamato il problema o il pianeta giustizia, sullo stato della giustizia nel nostro Paese e sulle prospettive a cui lavorare. L'ho fatto, sia chiaro, esprimendo esigenze e orientamenti di cui mi sono fatto carico assumendome la responsabilità di convalidare l'interesse generale, esigenze e orientamenti cioè corrispondenti ad attese e orientamenti di interesse generale. Alcuni di questi temi sono fuori del perimetro dell'incontro di oggi e io tuttavia vorrei farvi ugualmente qualche brevissimo cenno. In particolare il tema che è presupposto di quello dell'esecuzione penale, il tema cioè della legislazione penale. Me ne sono appunto occupato a più riprese nelle mie vesti di Presidente. Vedete, da lungo tempo il nostro Paese è afflitto, o si potrebbe forse anche meglio dire da lungo tempo il nostro Paese si autoinfligge una iperproduzione legislativa. E prevalza la tendenza largamente, sempre, a un eccesso di regolamentazione per legge di ogni tipo di situazioni e di problemi. E le molte e molto seriamente argomentate considerazioni che sono state svolte molto spesso circa le implicazioni negative di questa tendenza purtroppo non sono state abbastanza forti da prevalere nel comportamento di governi e di parlamenti. E siamo ancora alle prese con i guasti di questa iperproduzione legislativa in generale. Poi non parliamo della produzione legislativa in campo penale. In effetti, tra il finire dello scorso secolo e l'inizio di questo, noi siamo passati nel giro di pochi anni, da affermazioni e dichiarazioni di volontà politica a favore di un diritto penale minimo, come si è usato dire nel passato anche da parte di eminenti studiosi, ad una brusca inversione di rotta, nel senso di una pesante ripenalizzazione, di solito sempre provocata e per così dire falsamente giustificata da paure, da stati d'animo, da emergenze di ogni natura. Anche talvolta con questa iperproduzione legislativa in campo penale, questa ripenalizzazione, anche talvolta con la introduzione di qualche fattispecie di reato di dubbia sostenibilità, di dubbia praticabilità, come spesso poi i fatti si dimostrano di indicare, non senza però prezzi abbastanza pesanti pagati a questi errori e al cedimento a queste illusioni. Abbiamo, dunque io credo, da esprimere una speranza. Mi sento di esprimerla, caro Ministro Orlando, che Parlamento e Governo scelgano una più ragionevole e stabile rotta da percorrere sul piano della legislazione penale e in generale dell'attività legislativa. Altro tema fondamentale che fuoriesce dal perimetro stretto di questo incontro è, inutile dirlo, il rapporto tra politica e giustizia ed è perfino inutile aggiungere anche l'aggettivo cruciale, la crucialità, la difficoltà, in certi momenti l'allarmante acutezza di questo rapporto. E quando dico rapporto tra politica e giustizia intendo rapporto tra poteri legislativo ed esecutivo da una parte e potere giudiziario dall'altro, rapporti tra i soggetti della politica e i soggetti dell'esercizio della giustizia, soggetti istituzionali diversi come poteri diversi, impegnati però nello spirito della Costituzione repubblicana ad una costante, leale collaborazione. Nell'attuale fase storico-politica nazionale ed europea, aggiungo e non tra parentesi, non ce lo possiamo nascondere, poi parlano vicende anche recentissime, ma ci sono ogni tanto sempre vicende recentissime che riaccendono i fari sulla crucialità di questo problema e della sua difficile risoluzione. In effetti bisogna dire che emerge ancora una grave carenza di distinzione sia anche di collaborazione leale e sappiamo che collaborazione leale presuppone anche il reciproco rispetto tra quei poteri e quei giudizi. E invece io vorrei dire con molta schiettezza sia chiaro che anche il categorico impegno delle forze politiche democratiche e di tutte le istituzioni del Paese a combattere la piaga più che mai purulenta della corruzione, dell'affarismo e dell'intrigo, anche questo categorico impegno non può costituire motivo per una violazione di quei principi e di quei valori di distinzione e di reciproco rispetto tra poteri e soggetti che debbono collaborare alla realizzazione del messaggio costituzionale. Dunque più che mai c'è da rivolgere un appello a tutte le forze responsabili che operano nella giustizia come operano nella politica per mettere un freno a quello che oggi ancora una volta è arroccamento e contrapposizioni o che sono invasioni di campo e strumentalizzazioni politiche. Al Parlamento, inoltre se mi si consente, io vorrei, al Senato di cui mi onoro di far parte perché è lì attualmente quel provvedimento, vorrei raccomandare una maggiore e più limpida determinazione nel non lasciare sospese e incerte scelte importanti che pure il Governo ha ritenuto di dover proporre al Parlamento. E mi riferisco in modo particolare a scelte di riforma alla riforma del processo penale che da mesi si trascina nell'incertezza e nella sospensione nelle aule della Commissione Giustizia del Senato. Ritengo che queste siano veramente delle posizioni, delle evoluzioni negative che comportano molteplici ricadute su tutti i rapporti tra politica e giustizia. Ebbene, anche qui io penso che oramai sia più che matura l'esigenza di approvare quella riforma, compresa una più che matura e oramai urgente norma di delega per stabilire nuove regole, per chiarire termini di comportamento in materia di intercettazioni telefoniche e di loro pubblicabilità. Non si può ogni volta che si stia per approvare qualcosa di necessario, di utile e di riconosciuto come tale e di più che maturo fermarsi perché si è di fronte ad una qualche accensione polemica, a qualche scandalo o a qualche particolare contrapposizione tra mondo della politica e mondo della magistratura. Io penso che qualche speranza possiamo nutrirla e credo che possiamo effettivamente pensare ad una seria e impegnata collaborazione Parlamento, Governo, le più alte istituzioni della Repubblica, anche le più alte istituzioni di garanzia e amministrazione della giustizia e magistratura perché si evitino acutizzazioni veramente fatali, una volta si sarebbe detto, ma non credo che sia retorica, stantia, per la salute della nostra Repubblica. Infine, io sono stato molto lieto di poter ascoltare orora l'intervento così compiuto e serio del dottor Mauro Palma per quello che riguarda un profilo assolutamente tra i più sensibili e rilevanti della esecuzione penale, cioè la condizione carceraria, lo Stato o lo Stato delle carceri. Voi sapete che io nel mese di agosto del 2013 ho indirizzato, come previsto dalla Costituzione, un mio messaggio al Parlamento. È stato nel corso di quasi nove anni di esercizio del mio mandato, del mio primo e secondo mandato, l'unico messaggio che ho ritenuto di indirizzare al Parlamento. E questa particolare sobrietà, l'essere stato così particolarmente sobrio nell'esercitare questo potere, è spiegabile anche con l'avere io ricavato una convinzione da una lunga esperienza del progressivo affievolirsi dell'efficacia del ricorso a quello strumento dei messaggi del Presidente della Repubblica al Parlamento, che spesso hanno finito purtroppo per finire rapidamente in un dimenticatoio. Ma io ero convinto che questa volta non sarebbe accaduto per l'estrema crucialità, delicatezza, urgenza da tutti i punti di vista del tema carcerario ed anche perché in ogni caso non potevo sottrarmi a quella possibilità. Voglio aggiungere, non sembri un fuori luogo, voglio aggiungere che nel rivolgere quel messaggio al Parlamento io ho anche tenuto molto conto delle battaglie di Marco Pannella. Vedete con Marco Pannella, personalmente, se questo può interessare, per decenni mi sono incontrato e scontrato politicamente, mi sono anche scontrato su quello che mi è parso a un certo punto da parte sua e del suo partito una tendenza a un certo abuso dello strumento della richiesta di referendum abrogativi. Ma sul tema della vicinanza al mondo delle carceri e alla condizione dei carcerati, dei carcerati come anche del personale di custodia, veramente Marco Pannella ha dato lezioni a tutti. Ebbene, da quell'agosto 2013 non c'è dubbio che ci sia dati molto da fare per cercare anche di rispondere, come ben sappiamo, alle pressanti raccomandazioni di istituzioni europee. Il nostro rapporto con l'Europa si gioca su molti tavoli, tra i quali c'è quello delle infrazioni e mi permetto di dire che più dei richiami e più delle infrazioni per violazione di regole in materia di politiche di bilancio e di equilibri finanziari e non possono non colpirci i richiami e le infrazioni per politiche pubbliche che possano ledere valori fondamentali del Trattato dell'Unione e della nostra stessa comune civiltà europea. E tra questi certamente i valori della vita e della dignità per quanti sono ridotti nelle carceri per fatti anche molto gravi che abbiano compiuto e di cui siano stati riconosciuti responsabili. Abbiamo potuto constatare progressi sensibili, innanzitutto per l'aspetto che era risultato più indifendibile, più ingiustificabile, cioè l'estremo grado di sovraffollamento delle nostre carceri. Sono migliorati i dati sensibilmente, si può dire che si sia invertita la tendenza, però guai se noi dimenticassimo che quello del sovraffollamento è solo un aspetto del problema. Il problema delle condizioni della vita detentiva ci sarà, se ho ben letto il programma, una tavola rotonda dedicata a questo aspetto proprio domani e già molte cose anticipato qui il dottor Palma, è non meno importante o è se volete un'altra faccia anche del dramma del sovraffollamento. Ebbene, io ritengo che noi dobbiamo finalmente in questo nostro Paese non preoccuparci soltanto di quello che suscita emozione, clamore e conseguenti fatali strumentalizzazioni politiche. Il fatto che da qualche tempo appaia attenuato il clamore o anche i richiami internazionali per lo Stato delle nostre carceri non ci deve far smarrire il filo di un impegno costante come quello che sta portando avanti il Governo e per esso il Ministro e per esso il Ministro Orlando. Credo che ciò vada messo bene in chiaro e voglio sottolineare, lo ha fatto benissimo il dottor Palma, ma anche lui sa e molti di voi sanno che ho seguito con particolare convinzione questa strumentazione, questa articolazione della politica pubblica nei confronti delle carceri e dei detenuti, il ruolo che hanno svolto sempre di più i garanti a livello ragionale e a livello nazionale che possono svolgere per tutti i connotati che ha loro correttamente attribuito il dottor Mauro Palma. Vedete, noi non dobbiamo mai dimenticare il fatto, al di là appunto degli alti e bassi dell'attenzione pubblica, come si dice, o dell'opinione pubblica che poi sarebbe la interpretazione che ne dà la grande informazione ed è una informazione molto spesso parziale e solo apparentemente legata allo Stato reale delle questioni e anche allo Stato reale del pubblico sentire. Noi veniamo da una storia lunga, noi abbiamo dovuto fare i conti con l'eredità fascista per quello che riguarda le condizioni delle carceri e anche con l'eredità preesistente al fascismo. Io vorrei terminare, scusate se faccio questa piccola digressione, citando Sandro Pertini. Stamattina ho avuto occasione di dare una intervista, di registrare una intervista per un programma che ricorderà il nostro Presidente Pertini. E allora mi sono andato a riguardare i suoi discorsi parlamentari. Io stesso, da Presidente della Fondazione della Camera dei Deputati, avevo curato la pubblicazione di una importante selezione di quei discorsi. Io ho trovato questo discorso del 1947, esattamente 17 febbraio 1947, all'Assemblea Costituente, da parte del deputato Pertini, che aveva presentato una interrogazione dopo un grave caso che si era verificato, la morte di un detenuto in carcere, di un detenuto che si chiamava Caroselli, e fece un intervento che penso ancora oggi possa interessare tutti. Vi dirò, intanto, insomma, parlava da senatore per cinque anni di diritto, in quanto aveva trascorso anni e anni al confino e prima in carcere. E parlava rivolgendosi al Presidente dell'Assemblea, Umberto Terracini, che aveva fatto 17 anni di carcere e di confino sotto il fascismo. Infatti ricorda a lui esperienze comuni di carcere. Dice, voi che sedete a questi banchi non sapete che cosa significhi il Sant'Antonio? E non voglio adesso leggervi non solo per ragioni di tempo, ma perché è raccapricciante la descrizione che lui fa di questo cosiddetto Sant'Antonio che si imponeva ai deputati. E poi dice, beh, ai senatori, ai senatori quando erano detenuti. E in questo caso, diciamo, l'intervento per orare la causa dei detenuti da parte di parlamentari, che prima di deputati o senatori erano stati detenuti politici, ma detenuti sottoposti a tutte le anche i miei, a cui erano sottoposti gli altri, lui arriva a citare il caso, un caso orribile, della Rina Forte. Le cronache giudiziarie dell'epoca ne erano piene. E dice, la Forte ha commesso un delitto orribile. A noi però non interessa il fatto, ma la vita umana di questa detenuta. Poteva aver commesso anche qualcosa di più orribile per noi in questo momento ciò non interessa. L'onorevole ministro ha detto quasi per discriminare coloro che avevano agito contro il carosello, il detenuto che fu trovato morto in carcere, che era un pregiudicato. Non mi interessa. Seppure sapessi che il carosello avesse spacciato danaro falso anche a me avrei ugualmente difeso la sua vita. Noi siamo stati, noi detenuti politici, siamo stati sottoposti a molti interrogatori. Io sono stato sottoposto ad un interrogatorio qui a Regina Celi, che è durato dodici ore e vi posso assicurare che alla nona ora mi trovavo in uno stato di sale, esaurimento nervoso, che soltanto la mia fede politica, soltanto il controllo morale che può avere un uomo come noi poteva vincere. E poi arriva al problema della tortura o delle forme di tortura che assume la repressione di qualsiasi moto che possa allarmare gli addetti alla sicurezza delle carceri. E naturalmente, prima di arrivare a Cesare Beccaria, ripete, attenzione, la tortura è controproducente anche per appurare la verità, perché il colpevole è robusto, ha la possibilità di resistere ad un dolore momentaneo, pensando a questo modo di allontanare da sé la pena maggiore. Il debole e innocente non può resistere al dolore momentaneo e fa una confessione qualsiasi pur di potersi liberare da quella tortura. E quindi, dal punto di vista giuridico, ce l'ha insegnato Beccaria per primo, non può essere mai dimenticato nell'applicare la legge. L'accusato, qualsiasi colpa abbia commesso, è sacro. Ebbene, io credo che a distanza di quasi 70 anni da quel discorso di Sandro Mertini, quella lezione deve guidarci ancora oggi.